Noi i corridoi non li vogliamo, nel senso che ci spiace, ma sono convinto che il collega Fugatti, se la condizione fosse a rovescio, anche lui direbbe di no. Non è una lotta contro il Trentino Alto Adige, ci mancherebbe a tutto il nostro aiuto, la nostra solidarietà in questo momento, ma noi di corridoi per fare venire gli orsi del Trentino Alto Adige e farli arrivare in Veneto, anche no, nel senso che noi ci opponiamo a questa proposta.